ok siamo qui benvenuti a tutti in questo nuovo video oggi iniziamo con una serie di video cercheremo di farne uscire diversi il primo come leggete qui sotto è su Im Sama Imu adesso abbiamo scoperto alla luce dei capitoli 1085 e 1086 è molto importante soffermarci su questo concetto anche perché il personaggio lo analizzammo già a livello teorico storico e culturale tre anni fa se non di più con un video che è andato benissimo e mi invito a recuperare però alla luce delle analisi anche dei commentoni che scriviamo in Katakuri degli ultimi due capitoli possiamo dire qualcosa in più quindi piano piano pezzo per pezzo io vi dirò un po' le info cercherò di essere celere ma non troppo attenti si crea confusione e poi voi nei commenti mi direte cosa ne pensate senza altro dell'analisi che abbiamo fatto appunto ripeto io e Katakuri allora negli ultimi capitoli abbiamo visto tutti quanti insieme la questione di Im il fatto che ha fatto delle domande a Cobra e Cobra era molto sorpreso interessante notare come Im abbia iniziato a parlare di se stesso o se stesso o se stessa a seconda delle traduzioni dal giapponese sembrerebbe che nell'ultimo capitolo ci si riferisse con un'accezione maschile vedremo se sarà così diciamo che non è di rilevanza fondamentale per noi in questo momento sapere se nuova una donna potrebbe esserlo in futuro nel caso in cui ci fosse dietro un background che andrebbe a spiegare delle cose fondamentali per adesso l'importante è l'essenza del personaggio comunque Imu parla di se stesso con Mu e questo è molto bello il fatto che utilizzi la terza persona innanzitutto Mu grazie al giapponese possiamo capire che può significare vuoto o perso ma può significare anche la somma di tutto quindi lui o lei è tutto ma non è niente analizziamo quindi questo gioco di parole questo voler parlare in terza persona che spesso viene considerato come un gioco retorico per dei narcisisti perché si danno delle aree no? si pongono distanti si danno delle aree anche volte troppe aree anche se alcuni studi scientifici hanno riportato che ragionare in terza persona invece può essere utile può aiutare a dare una migliore risposta può aiutare la persona a distaccarsi a vedere le situazioni e prendere decisioni migliori quindi c'è questa doppia accezione perché altri studiosi invece dicono che si perde di saggezza qualcuno dice invece che è sintomo di saggezza c'è molta contraddizione alcuni parlavano in passato di questo metodo retorico del illeismo che utilizzava pure Giulio Cesare che era un gioco infantile insomma se vogliamo parlare anche un po' del nome Mu la sua origine letteraria si fa anche a vari significati il primo potrebbe essere quello della leggenda di un continente scomparso nell'oceano pacifico che viene descritto da un anglo americano Church Word così dovrebbe pronunciare spero anche se si basava su una traduzione sua del tutto errato infatti secondo delle successive conoscenze scientifiche a livello proprio geografico la storia non era compatibile con quella parte del continente in cui si dice fosse questa è poi sparita comunque ci fu l'abbate Charles S. Tien che era riuscito pensava lui a decifrare il cosiddetto codice troano ma non ha scritto Maya e applicava dei metodi che vennero inventati nel Cinquecento da Diego De Landa a un certo punto in questa storia che io vi riassumerò in modo veloce perché altrimenti è troppo lunga troppo lunga praticamente presero questi scritti apportarono a questa scritta Maya delle traduzioni che tra virgolette questi studiosi avevano cercato di comparare con un alfabeto fonetico che poi esistò errato invece era un'altra base di un altro tipo di alfabeti un altro tipo di realtà logogrammi venne detto poi successivamente comunque ricavarono delle traduzioni che erano errate successivamente dopo tre secoli arrivò questo Charles S. Tien che rinvenì questi studi della biblioteca storica lì a Madrid di Spagna portò avanti quello che aveva fatto tra virgolette come vi dicevo prima De Landa e riuscì a tradurre attuò tra virgolette la questione alfabetica portò degli scritti degli studi maggiori e riuscì a trovare un altro significato perché comunque si diceva che questi tra virgolette studi iniziali fossero un po' così quest'uomo questo studioso fece anche il giro del mondo per trovare pezzi di informazioni qui e lì e alla fine scoprì che la lettera che ne usciva fuori era la lettera non Mu che era questo nome di quella terra misteriosa che poi sarebbe appunto sparita sprofondata scomparsa e così via e quindi lui riuscì a far uscire fuori questo nome da queste traduzioni da queste tavolette Mu il continente perduto ovviamente la similitudine con Mu viene descritta anche in altri libri dove si parlava di buone apocalisse per tutti ancora Crowley che parlava del lode alla grande bestia divoratrice dei mondi al simbolo di Ogreda che era la grande antica lingua dei sacerdoti neri però sono diciamo cose un pochettino da studi differenti ancora si parla di Mu come le dodici stirpi facenti parte della saga di Endgame penso che quello lo conoscete tutti quanti detto ciò tornando a noi per grandi linee dialoghi fondamentali e cose molto importanti abbiamo visto la questione appunto dei venti regnanti 800 anni fa però quello lo analizziamo dopo è importante anche il focus che si fa sulla D sulla questione dei nemici sulla questione dei poneglyph per come sono stati sparsi per come sono stati divisi per come sono stati inquadrati quindi Imu sta iniziando a capire a cogliere che forse forse non c'è tutta questa casualità ma ci sono dei piani anche da quelli che in passato erano i suoi nemici che non ci sono più ma che probabilmente sono tornati dopo secoli e secoli ci capiamo Joy Boy il ritorno di Poseidon il ritorno di Nefertari e così via con le generazioni successive ed è importante ovviamente sempre dai dialoghi il fatto che Imu volesse riuscire a cogliere voi per capriccio voi per importanza voi per una sua cosa personale delle informazioni in più legate a Nefertare di Lili e non solo e quindi stiamo unendo i pezzi stanno ritornando un po' tutte le fattispecie del puzzle della scacchiera ma abbiamo ancora delle cose molto importanti tra cui il famoso cappello di Paglia che è lì nelle segrete del castello a Mari Giova è anche importante la metafora che ha fatto sulla D la questione dei gusci vuoti che voleva se non altro sottolineare il fatto che non avessero informazioni quelle attuali fondamentali sulla vera essenza cosa che poi avrà Rufi quando arriverà all'Aftel ovviamente non conosciamo ancora purtroppo le fattezze di Musama la penombra ci può dare qualche indizio però non troppo infatti quando si trasforma per mangiare praticamente si è cibato del fuoco di Sabo sembra veramente qualcosa di demoniaco che potrebbe anche essere collegato agli inferi perché no magari a qualcosa allegato proprio all'inferno o cose del genere perché anche quella specie di coda quella specie di freccia ricorda anche un po' un elemento demoniaco questi sono due elementi fenomeni già molto importanti potrebbe essere anche fruttato potrebbe avere qualche frutto speciale qualche frutto così potente così importante da poter combattere ovviamente contro quello di Rufi cioè lo zone mitologico Ito Ito no mi modello San Nika San God Nika quindi credo che anche in questo caso avrà probabilmente poi non lo sappiamo ancora un qualche tipo di zone mitologico anche esso risvegliato ovviamente se ci rifacciamo un po' a quella questione delle illusioni dei sogni degli incubi qualcosa di attraverso gli inganni abbiamo varie situazioni no? abbiamo soprattutto quanto concerne Morfeo poi c'erano i fratelli che possiamo anche non elencare la questione della storia no? Morfeo il dio dei sogni della malattia greca figlio di Ipno e Notte vabbè c'è tutta questa situazione che prende forma come nasce alcuni parti portano che ci sono tre fratelli alcuni altri portano che sono due la questione che di una storia veramente molto lunga e importante però si parla anche della questione di Thanatos Ipnos di Adessone della morte appunto c'erano Morfeo i fratelli eccetera eccetera ma la cosa importante è che quindi c'è anche un collegamento con l'oscurità la personalificazione anche qualcosa con l'inganno le divinità all'interno del vaso di Pandora ma anche il collegamento con le illusioni molto importante perché ci sono dei richiami anche magari al Baobao detto anche Maomau nel croccore europeo che era capace di terrorizzare i bambini con le sembianze di un demon l'uomo nel boogie man ma ancora ci sono ancora altri scritti come la strega ovvero degli ingannatori dei demoni che venne anche tradotto come libro detto strega o delle illusioni del demonio che pure può essere importante abbiamo anche il collegamento ne parlavo poi ci farò un video ancora più accurato con Kino Mars approfondimento importante noi parliamo gioco giapponese c'è un mix tra Final Fantasy Disney eccetera però ci sono questi nemici fondamentali diciamo basilari che sono i nobody o nessuno che a ciò che resta che hanno perso il cuore a caso dell'oscurità oppure heartless cioè senza cuore che sono manifestazioni fisiche dell'oscurità delle persone che hanno perso le emozioni e il cuore ovviamente Kingdom Hearts è fondamentale perché lì ci sono dei personaggi fantastici con i richiami a Final Fantasy per esempio se solo guardate il simbolo dei nemici che sembra quasi una croce come quella del governo mondiale se prendete ad esempio il mondo di Tron vabbè lo sapete penso che lo conoscete somiglia anche se volete tranne per nuovo all'isola di Eged futuristica lo Space Paradise poi ci sono dei nomi molto importanti che però adesso no vi riprendo per non fare diciamo spoiler che potrebbero essere poi collegati in futuro ve ne dico solo alcuni giusto per non far vedere che sono anche dei collegamenti no no ve ne dico ve ne dico in un video che farò che farò proprio un video One Piece per Kino Mars però ci sono molte fatti specie c'è un per esempio uno scienziato si parla di libri antichi molto importanti poi ci sono i nemici che sono un'organizzazione poi ci sono gli eroi c'è la luce c'è l'oscurità le tenebre ci sono dei concetti che vengono anche richiamati da Oda perché ovviamente anche Farafanda se anche Kino Mars hanno delle origini gli autori giapponesi e non solo ovviamente che però hanno tutto un quadro molto importante quindi ovviamente c'è una contrapposizione fra Imu e Rufi Rufi è colui che dei sogni Imu colui che crea le illusioni qualcosa di demoniaco gli incubi qualcosa di irreale contro Gio e Boi Nika quello che crea i sogni suoi e anche per gli altri suoi Nakama o a quanto meno più che creare cerca di far realizzare quelli dei suoi Nakama poi Rufi effettivamente non si lascia ma può creare di tutto quindi fino a oggi non sembra avere un limite se non appunto la sua immaginazione no? ovviamente non dobbiamo dimenticarci di Titch Barbara Nera con il Dark Dark anche lui è un altro tipo di Nemesi di Rufi ma sono due tipi di Nemesi contrapposti che possono convivere e l'una non esclude l'altra sia Titch che Imo sono le Nemesi di Rufi e se vogliamo di Gio e Boi Nika poi ne abbiamo parlato nei due video quindi video di Titch e video di Imo Sama ovviamente abbiamo fatto una cosa veloce un preambolo Rufi Gio e Boi Nika Shiraoshi Poseidon promessa Gio e Boi Zunesha sempre lo stesso Momonosuke il ritorno di un antico Kozuki collegamento con Zunesha ma anche con Pluton Bibi ritorno di Lily collegamento con Pluton e quindi anche antica essa e poi vabbè ci sarebbe Zoro discendente di Ushimaru Furiko e quindi Ryuma però lì dovremmo capire un attimino ancora quale potrebbe essere poi in futuro il possibile se c'è collegamento fra Ryuma e Gio e Boi anche se a Uano un po' di accenno è stato fatto vabbè poi c'è Imu Imusama Imusama e perché è importante questo? perché oggi nel capitolo 1986 oggi nel senso come ultimo capitolo abbiamo visto l'arma creata da Vegapunk quindi non un'arma ancestrale no ma creata da Vegapunk Mother Flame ragazzi uso Mother Flame potrebbe essere anche Mother Frame però più traduzioni diverse su Manga Plus sono contrastanti alcuni portano Frame alcuni portano Flame ma parlando con amici in Giappone mi hanno assicurato che è Flame quindi ci sia un richiamo alla canzone sicuramente di Game of Thrones dei Neresi Targaryen Song ma soprattutto perché quello che vi so per dire adesso è molto importante Flame quindi la madre fiamma la fiamma madre la fiamma principale è importante per quello che vi dirò adesso come collegamento però prima vi voglio dire quindi questo è ciò che ha distrutto l'Olusia lo ha fatto per fare un test questo è molto interessante perché vuol dire che non era già deciso non era per un piano per un qualcosa di oscuro o perché ma bensì perché il re del mondo nell'ombra plasma il mondo a suo piacimento e quindi decide che in quel caso era l'isola più vicina e quindi la deve distruggere però ora facciamo un passo indietro che poi era il tempo passo avanti abbiamo visto attraverso il libro della Genesi così c'è scritto di Ivankov mentre parlava con Sapo che ci parla di questa dinastia di uno dei venti leni discendenti di Nerona innanzitutto praticamente Ivankov fa anche lui o anche lei il fan di One Piece praticamente fa le domande le teorie ci dice potrebbe essere uno dei venti e quindi avere 800 anni potrebbe avere ottenuto l'etena giovinezza grazie all'OPEO sfrutta quest'arma che potrebbe essere stata creata da Vegapunk e infatti Dragon e gli altri sono un po' titubanti da questa cosa però Ivan è molto decisa e non ci sembra stia commettendo errori a meno crediamo poi vedremo se Oda confermerà le impressioni di Ivan e a un certo punto esce questo collegamento no? Nerona con Nerone ovviamente Mother Flame ovviamente plasmare il mondo facciamo attenzione riprendete pure quello che ho detto all'inizio parlare in terza persona ecocentrismo narcisismo voler comandare gli altri silence decido io insomma questo dice Imo allora vediamo un attimo il confronto tra Nerone e Nerone è interessante innanzitutto sappiamo che la storiografia su questo personaggio è pieno di contraddizioni quindi già so che qualcuno vada a dire sì ma avete fatto bene le categorie a parlare circa ma non è proprio così non importa noi prendiamo l'accezione che è stata fatta passare da una parte della storiografia anche se un'altra è diversa quella parte della storiografia che ci interessa per poter pensare che magari Oda ha preso l'ispirazione magari non sarà così ma è una cosa divertente interessante e magari perché no anche giusta perché spesso io e Cataculi abbiamo fatto questi riferimenti storici e culturali e sono poi diventati dopo tempo a volte subito a volte dopo tempo calzanti ragazzi Trafalgarlo e poi a un certo punto tutti quanti a ridere la sconfitta di Bigman quasi quattro anni la sconfitta di Bigman Waterloo Napoleon eccetera eccetera Cataculi che fece il collegamento storico e miso in mezzo anche gli assi di saggezza poi alla fine che succede che Trafalgarlo insieme a Kid buttano giù Bigman cioè nel senso quindi attenzione magari non è così magari lo è vedremo comunque Nerone l'imperatore romano lo conoscete tutti sicuramente un personaggio pieno di contraddizioni che da una parte amava l'arte ma era considerato comunque un despota un megalomane raccontavano infatti gli storici che gli fu uno dei più parole pesantissime vergognosi imperatori che Roma abbia mai visto un pazzo che addirittura di dell'ordine di fare incendiare la sua stessa città il rogo durò sei giorni poi riuscì a dare la colpa ai cristiani che vennero perseguitati e questa è una cosa interessante dare colpe agli altri gli schiavi i lunariani la D farsi nemici incolparli modificare la realtà eccetera eccetera e dopo quest'incendio Nerone fece ricostruire nuove opere pubbliche fece costruire per sé una villa enorme smisurata chiamata Domus Aurea e il riferimento potrebbe starci come no ha preso la lontanissima ma è interessante come dicevo anche prima la questione del libro della Genesi molto importante per le 20 famiglie perché comunque voi lo sapete che il libro della Genesi fa sicuramente un richiamo religioso deve esserlo per forza perché se si parla del volere di colui che plasma il mondo la Genesi che viene detta anche principio nascita creazione origine come traslitterazione anche dall'ebraico dal greco e non solo capiamo che ne abbiamo anche la divisione la Bibbia che è divisa in antico testamento per gli ebrei nuovo testamento che vale soprattutto per i cristiani e per l'avvento di Gesù quindi secondo noi c'è questa ambivalenza che avrebbe un senso e che potrebbe starci nel computo totale ovviamente del discorso sulle origini e collegamenti che potrebbe esserci per il mesama parlare in terza persona avere un pochettino questa frenesia il fatto che dovrebbe nel mondo se veramente è lì da 800 anni voi pensate quanti anni ha dominato l'unica cosa che vi dico però vi rimando perché faremo un altro video la questione se vi ricordate le nostre live io vi invito a recuperare sempre tutte le ultime live ma tutti i nostri video abbiamo anche analizzato via che da colui lo facemmo già nel 1073 quando venne presentato Saturn ma l'abbiamo rifatto nel 1086 la questione dei pianeti Marte Mercurio Saturno Venere Giove e vi diciamo Rufi col Sole poi c'era Poseidon Nettuno Uranus Uranus Plutone Pluton eccetera eccetera e vi dicevo che rimanevano altre due Vega la questione della stella Vega le altre due cose lo vorrei stare assumendo perché sarà un altro video quello che sono la Luna e la Terra la Luna con cui c'è un collegamento incredibile abbiamo le mini avventure di Eneru che abbiamo analizzato che procede a essere un video i lunariani i minchi visioni che si trasformano e tante altre cose importanti Iori e Toki principessa della Luna eccetera Amatsuki e così la Terra colui che la plasma sarebbe molto interessante anche quella detto questo questa è l'analisi questo è l'approfondimento parlare in terza persona origine magari eterna giovinezza magari venti famiglie Nerone Mother Flame potere che si contrappone a chi crea i sogni creare gli incubi menzogne contro verità oscurità intesa non come quella del Dark Dark ma come l'ombra che si vuole dare al sole no? perché c'è il sole e qualcuno che gli vuole fare ombra e questo è importante gli incubi e i sogni fatemi pensare così sono ando a braccio ragazzi e sono cose molto importanti queste qui che vi sto dicendo che sono ovviamente pure i poteri che abbiamo confrontato con le divinità perché pensiamo che se Rufi ha un potere divino lasciatemi la parola spero lo abbia anche i Musama no? e poi parleremo anche poi degli astri sono solo teorie ovviamente ci sono anche degli approfondimenti storici all'interno ci sono delle ricerche mie di Katakure c'è un lavoro dietro molto importante e ditemi voi cosa ne pensate sull'origine sui poteri sulla personalità sulle ricerche storiche sui confronti in mu chi è chi è per voi ditemelo e soprattutto qui nei commenti recuperate le vecchie live mettete like iscrivetevi attivate la campanella passate tutti i social facebook instagram telegram abbiamo fatto anche il nuovo tiktok twitch eccetera mettete l'hashtag chi è Imusama è veloce è breve oppure chi è Imu velocissimo va bene vi aspetto in tante in tante qui anche con un commento da sfogliatori e da sfogliatrici sfogliatori sfogliatelle spero con tutto me stesso di aver detto come sempre so la verità è veloce è veloce è veloce Grazie a tutti.